Primo maggio 2008, una giornata stupenda al colle di Beusi, sopra Taggia, in basso arma di Taggia, con i suoi edifici e il suo mare. Al centro la chiesetta della villetta di Beusi, la frazione Beusi, sullo sfondo, dietro al pino, Ceriana, sullo sfondo Ceriana, Che fai? Tutte la fai? 3 3 3 4 Grazie a tutti.